In giorni difficili come questi, a volte il tempo sembra addensarsi, comprimersi, fino a diventare molto stretto. È in momenti come questi che ci si può rivolgere al cinema e la ragione ce la spiega John Stanbeck nel suo libro più famoso, Furore. Una volta ho visto un film che parevo io, ma con dentro più roba, e pareva la mia vita ma con dentro più roba, perciò era tutto più grande. Se tra le luci e le ombre, proiettate su uno schermo, riusciamo a intravedere noi stessi e la nostra vita, ma con dentro più roba, allora anche lo spazio angusto della nostra cucina può diventare immenso, sconfinato. Buon cinema a tutti!